Il canale di Pertena è solo un canale di Pertena. Cioè praticamente viene la canale di Pertena? Di Pertena viene giù e viene la cena. In calità la cena. Da Monte Bonale. Volevi passare normalmente di dietro? No, no. Passa dove c'è quella persona, vieni qua. Vedi che ci passa fuori. Se l'ho fatto fuori c'è quella di Pertena. Che vuoi mettere? Molte due mani sta nave di Pertena, se il Pertena la c'era. In totalità la c'era. Sono lì nella cagliata. Io non ne puentare. In quel modo il dice? Si. Un po' di Pertena. No, non ne puoi cercare! Qu'è la Ria di Pertena? Eh, c'è? Si, era il un po' di Pertena. Si. Faare! Lui! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.